Il signor Claudio Matta che consegna il trofei a nome di Anisha Kastad, lo sponsor della categoria. Al quarto posto, Silhouette by Justice, è una figlia di Warp e Justice, Amira e Nepusta, Pablo Sgibli, allevata da Scaroni Gian Enrico, proprietario Scaramella Manuela. In terza posizione, 39 favola LC, è nata da Iman Monicione e Fatima, LC da Belica, allevata da La Campagnola e proprietario è Gondola Vilma. La categoria è la numero 45 Sg Venusia da Sdb Taylor e Venus Vibernera da Brian Saver, società agricola, scuderia, groane, proprietario e allevatore. Patrici di dieci anni e due anni. Patrici di dieci anni e due anni. Patrici di dieci anni e due anni. Patrici di dieci anni e due anni, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti